Il tuo verboio sopra, non saluta, è un rievo come un po' a donar, perché il mio cuore fa diventare, perché il mio cuore fa diventare. Il tuo verboio sopra, non saluta, perché il mio cuore fa diventare. Il tuo verboio sopra, non saluta, 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 non saluta. Si. Sta arrivando la polizia. Si che c'è la logna con la polizia. Si che c'è la logna con la polizia. Numeri d'acqua. Marron, uno. Canarin, due. Viola, tre. Celeste, quattro. Rosa, otto. Arancio, nove. Allineate qui alla dama. Costa. Dica. 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 Sì. Cosa. Dovemmo seguire la barca signorina, all'andamento, no deve essere l'andamento. Mi scusa Nati, dobbiamo insediarvi assicurezza della navigazione, credo che sia informazione. Volevo sapere l'andamento della regata? Sì, partiamo da qua, arriviamo fino a San Giobbe e giriamo per il canale San Secondo fino a Punta San Giuliano. Voi arrivate fino a Punta San Giuliano? Sì, sì. Ma voi avete fatto una richiesta? Sì, io ho avuto il suo collega. Abbiamo mandato tutti i fax a 6-7 amministrazioni. Date, molto più da barca! Inoltre non ci sono sempre l'autore di nascimento. E' un'attivenesse che si è un'attività. C'è un'attività che si avrebbe ad un'attività per il cuore di una bianca. E' un'attività che si avrebbe da non ciò che si avrebbe da rosso. si va bene così il giudice premio Maron Maron premi premi Maron premi prima Maron stai verde premi Walter tu fai da dritto Paolo si si vado dritto premi Maron premi lascia spazio premi Maron premi mia mi adesso c'è Trommo adesso chiama Trommo Trommo eh C'è questo celeste stai celeste, stai appo Sì, non è legato, è legato che si cazza, ma anche il trombo con la testa di noi, la testa, proprio amore. Vieni che devi indossi, vai via, non ti aspetta l'acqua, ti aspetti che tu hai avuto. Via, ti chiamerai spero. Io, io. Premi, premi adesso. Malter, ti capo, a chi che ti vuoi qua sotto, Malter. Celeste, premi, premi, stai lontano. Premi, premi, premi tranquillo. Tranquillo. Vai tranquillo, vai tranquillo. Sempre, sempre. Lui, dai, tira spazio adesso, dai, tira spazio, dai. Ma poi, qua, 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 qua. Non lo canale. Non lo canale. Non lo canale. Grazie. Maolo. Maolo. Va avanti, va avanti, va avanti, va avanti. Ti puoi stare qua, qua. Va avanti perché se ci fai tagli, va di là. Non mi pare lo isco di trega. Ma questo è il tempo che ne cazano. Va avanti, va avanti. Fai un' momento che non mi pare. Va avanti, va avanti. e' qua Se il motoscafo passi in deserto di gaffa Dov'è ancora tutto qua? Sì, è dopo tagliare tutto E ti ha paura che ti passa per l'altro Questo si è in sicurezza E non ti faccio fare la riera da stagli Per di sicurezza Non ti faccio fare, non ti senti tutto qui davanti Non ti faccio fare, non ti senti tutto qui davanti Non ti faccio fare, non ti faccio fare E chi mi ha fatto delle gatti con le glorie a saperla Segui ma l'interno E' l'uigina, l'interno è l'uigina Sì, non ti senti l'uigina Voi, vi parlo Sì Sìììì! Bianco, lascia a campo! Premi un po'! Premi Bianco, premi! E' un'altra volta, è un'altra volta, è sempre io lì È un'altra volta non va lo stava eh sì è rosa eh rosa premi rosa premi ma andò e ti metti dentro che sei Luigina Adesso ti cominciamo a legata. Chissà sul terzo. Le bandierette sono qui. Le bandierette sono qui. Tu che vieni prima. Porto avanti il campianello. Gloria! Ciao! Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Adesso è la talità di Emanuela che ha fatto. Sì. Poveria confrontarsi, no? Questa sì. Chia. Cosa è la turcola? Cosa è la turcola? Va sempre l'amante. Vieni. Poi le tessereci. Vieni qua. Vieni qua. Non sa cosa troverà. Sempre l'amante. è più a corrente, è più bello a stare è vicino, è vicino, è vicino, è vicino, è vicino è vicino, è vicino, è vicino, è vicino il campo di gara, è duro, è il campo di ampio è il livio che muove qua, non c'è non c'è, non c'è vai, si vado qua davanti seca Elisa no, no, è vero seca Tony Mortis un pochino uno viva un genaro no, non c'è un genaro si, dovrebbe essere andare fuori insieme un genaro a Tony un genaro a Tony si si, si si, si qui a chi che non è c'è? un genaro non un genaro 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 guarda vedo la differenza none premi rosa dai i dai dai hai Sì, che poteadito, tre volte qui. Ora il paio Paolo. Mi sa che che freda è negata. Tutto per questo va su tutto, tutto arriva, va in carino. Alla prossima. Rosa! Rosa! Rosa premi! Aspetta un po' Rosa, dai! Dai! Dai un po' Canarini! Dai! 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 Dai, dai! il corso è l'entare Sì, non c'è una cosa? C'è una cosa? Guarda, vai, perché se mi chiusa. Camina, camina. Questa casa non è la ragazza. Mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede, mi chiede. Mi chiede, mi chiede, mi chiede. La prima cosa è arrivata, mi chiede, di quella. La prima cosa è arrivata. Ma non è arrivata a così. La prima cosa è che la prima cosa è arrivata. Una prima cosa è arrivato. Una prima cosa è arrivato. Tutti il tempo dovrei tirare. per poter grado di forse non vado a provare ma non può fare l'icola è una cosa che è piena l'icola è postata o no l'icola è una mazza è un'occhio allo che metà è un anno ma mia lingua è un po' per via il cuore allora ho avuto lui di vuore allora è ora è ora è ora è ora è ora non è così Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.